Posso mangiare i pomodori Quando sono piccoli posso mangiare cose morbidi Abbastanza piccole Fare il bagnetto a meno di un mese Se ce lo volete fare in una seta piccola e non tanto alta Potete farlo anche nei primi giorni Però potete sempre qualche giorno Per un po' di sicurezza Magari al massimo di 5-6 cm Scodettiamo perché siamo felici E' carino E' carino Carini 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 Mamma Come potete vedere Anomanzimele E' acqua Quando finisce Dove l'avete comprata Solo dirci a quella signora quanto hanno E gli danno Un salmogene Un pochino più grande E' un pochino più grande E' un pochino più grande Sì Vanno pure i mozzi da grandi Stanno diventando grandi Lei da grandi Diventerò brutta bianca Credo Invece lui da grandi Sì 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 Lui da grandi Diventerà Nero e bianco Le hanno più molte A bianche Non sempre tutte volano Però Credo che un pochino Vabbè Un po' di aiuto Magari Io posso Un po' Volare Ma un po' Piaggia La femmina può volare Fino a quando Vole via Perché non pesa Tanto Volare anche Quando è vecchio Invece il maschio Sì La razza Che è La razza Che è lui Ci mi ammette di volare Però i maschi Quando sono vecchi Non riesco No Abo Bene Ciao a tutti Ci vediamo In un prossimo Minio 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 Grazie a tutti.